Per una questione di responsabilità nei confronti miei, della mia famiglia e dei miei alunni, io limito al massimo i contatti esterni, anche se sono vaccinata e uso la mascherina. Cucinare non posso cucinare perché la cucina è praticamente inagibile, non ho più una stanza da pranzo dove mangiare, devo fare tutto in questa stanza, anche mangiare, veramente insopportabile. Incivile chi è che mi ha ridotto in queste condizioni?